Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo alla presentazione di ben tre interrogazioni da parte del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. I grillini pretendono soprattutto chiarezza in merito alla realizzazione degli allacci idrici privati a Manfria e sul pagamento dei canoni a Caltacqua. Hanno preso carta e penna stigmatizzando l'operato della sindaco di Gela, sono i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Enzo Giudice, Virginia Farruggia, Angelo Amato e Simone Morgana. Una delle vicende che ha indotto i grillini a dire la propria presentando un'interrogazione è quella legata all'arrivo dell'acqua potabile per circa 400 utenze in contrada a Manfria, grazie alla realizzazione dell'acquedotto da parte della Divina Acquedotti, alla quale i residenti della zona balneare si sono rivolti dopo essersi costituiti in consorzio. Invece che brindare a Manfria sulle spalle di quasi 400 cittadini che hanno pagato 1.500 euro di allaccio e che ignari non hanno alcuna certezza di continuare ad avere acqua, dicono i grillini, il sindaco spiega alla città la posizione della regione del 19 maggio scorso, assessorato regionale energia e servizi pubblica utilità e renda note le più recenti disposizioni del prefetto. Acqua pubblica per il Movimento 5 Stelle non significa creare speculazione su questo bene primario e quindi non quella di dare acqua solo a chi può permettersi costi enormemente ricaricati. Bene comune, rincarano i grillini, non vuol dire sventrare 30 km di strade comunali per dare acqua a 400 consorziati. Chi pagherà i ripristini? Chi erediterà questi nuovi debiti fuori bilancio? Perché Manfria deve avere docce e passerelle finanziate da Divina Acquedotti e consorzio piano marina pagate da quelli che i consiglieri del Movimento 5 Stelle ritengono i portatori di interesse con il sindaco che brinda per l'inaugurazione della rete? In un'altra interrogazione, il gruppo consigliare dei 5 Stelle interviene sui servizi e sulle fatture emesse dalla società Caltacqua che gestisce il servizio idrico a Gela. Al sindaco e alla giunta si chiede di utilizzare tutte quelle misure attraverso gli uffici specifici e l'assessorato di competenza per eliminare i numerosi problemi. Acqua singhiozzo, elevato consumo elettrico per riuscire a riempire le cisterne, presenza di bolle d'aria nelle tubature, non potabilità dell'acqua, informando anche la cittadinanza in modo che chiunque venga a conoscenza in anticipo dei disservizi di erogazione della potabilità o no, e specialmente le modalità di fatturazione per far sì che i cittadini presentino in tempi utili eventuali ricorsi sulle fatture gemesse, al fine di evitare che tutto ciò continui a perpetrarsi all'infinito a discapito dei bilanci familiari e le numerose sedi comunali dove esiste un contratto con il gestore idrico. Tra l'altro le richieste formulate da Grillini, primo firmatario Enzo Giudice, sono parte integrante della Carta dei Servizi Ato CL6 e Caltacqua per la tutela degli stessi cittadini. Chiediamo al sindaco e all'assessore siciliano, continuano i proponenti, se l'amministrazione dopo l'approvazione all'unanimità nel mese di aprile da parte del Consiglio Comunale della mozione, quali interventi o strumenti ha deciso di mettere in atto per ridurre tutti i disagi che i cittadini giornalmente subiscono. E lo stesso gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle pretende chiarezza anche sui tre possibili progetti per la trasformazione dei rifiuti che dovrebbero concretizzarsi sia nelle aree dismesse che all'interno dello stabilimento Eni. Al centro delle valutazioni ci sono i progetti che dovrebbero riguardare il processo di termoossidazione dei rifiuti e quelli per la trasformazione degli stessi in biometano. Chiediamo delle lucidazioni tecniche specifiche attraverso una relazione dettagliata che descriva la tipologia degli investimenti da realizzare, scrivono i consiglieri del Movimento 5 Stelle. Ed ancora le tecnologie utilizzate, l'impatto ambientale, le ricadute socio-economiche dei progetti. Dopo aver presentato la sua nuova squadra assessoriale in Sala Gialla qualche settimana fa, il sindaco di Caltanissetta, Giovanni Ruvolo, si è recato con la nuova giunta dal prefetto Maria Teresa Cucinotta. Una presentazione ufficiale avvenuta questa mattina presso la prefettura di Caltanissetta alle ore 11. Prosegue dunque un rapporto di sinergia e collaborazione tra le forze che operano sul territorio, un dialogo aperto per affrontare i temi che riguardano il benessere della città. Sicuramente la collaborazione istituzionale è una prerogativa mia della prefettura e sicuramente serve anche per rinsaldare questa unità di intenti che deve guidare l'azione di tutte le istituzioni sul territorio. Col Comune abbiamo già un dialogo aperto da tempo, da quando sono io arrivata a Caltanissetta, con questo sindaco, ora apprezzo molto che il sindaco sia venuto a presentare la nuova giunta proprio per rinsaldare questo forte senso di collaborazione istituzionale. Proprio in questo grande spirito di collaborazione che ha sempre connotato il rapporto tra la prefettura di Caltanissetta e il Comune, che oggi siamo qui per proprio dare il senso di questa continuità. Oggi presenterò i nuovi assessori con le rispettive deleghe e condivideremo insieme le attività che ci accingiamo a svolgere in questa fase che è una fase fortemente legata alla precedente ma che chiaramente oggi è portata avanti da assessori che hanno insieme al prefetto la volontà di operare sempre per il bene della città. La sfida della raccolta differenziata prima di tutto, la gestione del servizio rifiuti, il problema della sicurezza in città, l'animazione del centro storico, sono tanti gli aspetti che riguardano la nostra città e noi con entusiasmo e con quel spirito di speranza che deve connotare anche momenti difficili, noi insieme appunto a Sua Eccellenza il prefetto continueremo a lavorare proprio per dare il senso della presenza dello Stato nella nostra città. Le famiglie già resi degli alunni delle scuole statali e paritarie possono presentare istanza per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno scolastico 2015-2016. La domanda di partecipazione assieme ai suoi legati dovrà essere presentata pena esclusione entro il prossimo 30 settembre esclusivamente nella scuola frequentata dallo studente. Al beneficio delle borse di studio possono accedere i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore ma anche lo stesso studente se maggiorenne appartenenti a famiglie in possesso di un ISEE non superiore a 10.632,94 euro. I moduli di domanda vanno ritirati nella scuola frequentata dallo studente o possono essere scaricati dal sito internet del comune di Gela. Gli anziani e i soggetti portatori di handicap residenti a Gela possono presentare istanza per il rilascio delle tessere di libera circolazione AST relative all'anno 2017. Le domande corredate dalla documentazione prevista devono essere presentate al protocollo generale del comune entro il prossimo 26 agosto. Il modello è disponibile negli uffici del segretario sociale in Viale Mediterraneo. Hanno approfittato dell'assenza del proprietario per scassinare sabato pomeriggio la porta d'ingresso di un appartamento in via Gentile a portare via eventuali preziosi e denaro. Un tentativo finito male visto che i ladri, tre giovani di 19, 34 e 21 anni, sono stati sorpresi dai poliziotti della sezione volanti, allertati da una telefonata anonima giunta alla sala operativa della Questura. Bloccati i tre giovani sono stati tratti in arresto in flagranza di reato per tentato furto in concorso e posti ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sempre sabato, intorno alle due del mattino, i poliziotti, nel corso dei controlli, disposti dal questore Bruno Megale per contrastare i furti nelle zone periferiche della città, hanno rinvenuto al chilometro 7 della strada provinciale 1 a Caltanissetta d'Elia, nelle vicinanze di un casolare abbandonato, un'auto. Dai controlli la Peugeot 206.100, nascosta tra la vegetazione, risultata rubata nella notte tra il 4 e il 5 agosto a Favara, dai gnoti che, dopo aver rafforzato il cancello dell'abitazione di campagna della vittima, sono fuggiti con l'auto lasciata con le chiavi inserite nel quadro accensione, così come risultato dalla denuncia presentata ai carabinieri del posto. Dopo i rilievi della polizia scientifica, l'auto è stata restituita al legittimo proprietario. Proseguono intanto le intagini della squadra mobile di Caltanissetta. Un vasto ingentio nelle campagne che costeggiano la strada statale 640 nelle vicinanze di Grotta Rossa ha invece tenuto impegnati sabato per oltre due ore i vigili del fuoco e gli uomini della forestale. Il traffico sulla stradale, a causa del fumo che si è sprigionato, ha subito dei rallentamenti. È stato riaperto domenica pomeriggio il tratto dell'autostrada 19 Palermo-Catania nel territorio comunale di Paternò, chiuso in direzione Palermo, per permettere il recupero di un mezzo pesante ribaltatosi autonomamente precipitato nella scarpata sottostante nella giornata di sabato. Un'auto articolato, infatti, che trasportava alimenti per cause ancora in corso di accertamento al chilometro 163 nelle vicinanze di Centuripe, è uscito fuori strade dopo aver distrutto il guardrail e precipitato nella scarpata. Illesi il camionista di 39 anni e il figlio di 12 anni che si trovavano a bordo del mezzo che hanno riportato qualche lieve ferita. Sul posto, oltre all'elisoccorso del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale ANAS e la polizia stradale di Enna per i rilievi. Torniamo a Gela. Si terrà domenica 28 agosto alle 21 alla Rotonda S di Macchietella il premio nazionale riservato ai cantanti Eleonora Lavorre. L'iniziativa è della associazione Elevision con il patrocinio della regione e del comune. Un evento unico in Sicilia, orchestra dal vivo, ospiti nazionali, 20 voci scelte in tutta Italia. La manifestazione sarà presentata da Pamela Olivieri ed Angelo Martini. Noi oggi ne abbiamo parlato con uno degli organizzatori, Peppe Lavorre. Cosa ti aspetti quest'anno? Considerato che il premio Eleonora Lavorre è molto seguito a Gela, ma anche dai paesi vicini proprio alla città. Siamo alla terza edizione, tante emozioni perché noi iniziamo a settembre a conoscere i partecipanti che ogni anno da tutta Italia sono tantissimi. Questo per noi è un grande orgoglio e una grande forza per andare avanti. Tutto il ricordo di Eleonora Lavorre. La location è sempre la stessa, parliamo della Rotonda S di Macchietella. Esatto, sì, quest'anno avremo l'orchestra del vivo e grandi ospiti nazionali che verranno. Tante news e tante novità che vi aspetterete il 28 agosto alle ore 21 a Rotonda S di Macchietella. Il ricordo di Eleonora è indelebile non soltanto per te, fratello, ma anche per gli organizzatori, per i cantanti, per i presentatori. Esatto, oggi cantare l'onore in tutta Italia per noi è stata una grande soddisfazione. Grazie ai talenti che ogni anno ci permettono questo, l'emozione è sempre più forte. Ele oggi è viva con noi, questo lo sento ormai da diversi anni. Quindi un grazie immenso va a Gela perché ogni anno partecipa numerosa. Per noi è molto importante avere la piazza piena perché dare forza ai ragazzi è la cosa più importante per i talenti. Quindi il vero premio è i vostri applausi, quindi rispettiamo il 28 agosto alle ore 21. Possiamo svelare qualche iniziativa, qualche sorpresa o ancora è presto? Esatto, avremo ospite, dico qualcosina, tanto per lasciare un pochettino un po' di suspense perché è anche il giusto. Avremo ospite un inviato delle Iene, Italia 1. Ci saranno anche temi sociali perché il premio valorizza anche il territorio e molta attenzione anche al sociale. Quindi avremo ospiti che parleranno delle loro difficoltà e grazie all'arte, grazie allo sport, sono andati avanti. Quindi il sociale è importante anche. Si dice in bocca al lupo in questi casi? Crepi il lupo. A presto, grazie, il 28 agosto, vi aspetto. Appuntamento con la trasmissione 10 domande 10 questa sera alle 21. Il nostro ospite è il dirigente scolastico Cetta Mongelli. Le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18. Dopo la consueta pausa estiva è tornato in edicola il Corriere di Gela, settimanale indivendente di attualità, politica, cultura e sport a diffusione comprensoriale, fondato e diretto da Rocco Cerro. Apertura del giornale dedicata alla situazione di abbandono in cui versa il viviere il lago dimenticato. Nello Lombardo ne parla con il direttore della riserva protetta, Emilio Giudice, che ne denuncia carenze e responsabilità. C'è poi la politica e il caos che regna in seno al PD, dove da qui a qualche settimana potrebbe consumarsi una rottura con la creazione di un gruppo consigliare bis cui andrebbero a confluire Ventura, Biundo e Malluzzo. Giulio Cordaro nella sua rubrica politicamente scorretto punta il dito sui parlamentari regionali e sui loro recenti comportamenti. Tutti o quasi, scrive Cordaro, andrebbero rimandati a scuola. All'interno l'attualità Zaira Placenti ha seguito la cerimonia di insedimento in tribunale del nuovo presidente della sezione penale, Miriam D'Amore. C'era anche il giudice Lirio Conti, che a giorni riprenderà il servizio a Gela dopo quasi cinque anni di permanenza al tribunale di Caltanissetta. C'è la pagina delle aste giudiziarie e lo sport con i servizi di Orazio a Comando sul calcio cittadino. Ci sono anche articoli su pallavolo e atletica leggera. In ultima la pagina degli annunci economici gratuiti. Fai la cosa giusta, differenzi ai rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, lunedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione il secco residuale in un sacco trasparente. Conferire piccoli oggetti di uso domestico, nastro adesivo, penne, carta carbone, oleata, plastificata e da forno, posate in plastica, sottovasi, bacinelli, materiali in plastica non di imballaggio, giocattoli, elettrici e non, cassette audio e video, floppy disk, cd, tvd, spugne sintetiche e stracci sporti, cosmetici, calze in nylon, lumini votivi, pannolini e assorbenti igienici, sacchetti aspirapolveri, mozziconi di sigaretta. È assolutamente vietato l'impiego di sacchi neri e o incolorazioni che non consentono il facile riconoscimento di quanto conferito. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Saranno il presidente del club Luigi Nastasi ed il vicepresidente e responsabile delle attività culturali Sergio Antonuccio. Coordinerà il dirigente scolastico Agata Gueli. Interverrà Rita Salvo, docente di letteratura del liceo Eschilo e presidente della FIDAPA. L'evento è organizzato in collaborazione con la libreria di Felicia Randazzo di Via Parioli. E adesso parliamo di calcio. Coppa Italia amara per il Gela. Ieri sul neutro di Noliotta dedicata la formazione bianca-azzurra è stata battuta per 1-0 dalla San Cataldese ed è stata purtroppo eliminata. Una protezza dell'attaccante argentino Martin Gonzalez consente alla San Cataldese di accedere al secondo turno di Coppa Italia e di averla meglio contro la rivale che la scorsa stagione ebbe la meglio nel campionato di eccellenza dopo un bel testo a testa. Così ieri sul neutro di Licata è andata in scena l'ennesima sfida tra le due compaggini isolane che anche quest'anno si ritroveranno nel torneo di Serie D. Alla fine a sorridere è stata la squadra verde amaranto dal tecnico Rosario Marcenò brava a punire la retroguardia giolese nell'unica disattenzione della gara. Tutto sommato però la partita vista ieri sul sintetico Licatese è stata equilibrata con i padroni di casa del Gela che hanno creato qualcosa in più rispetto agli avversari una su tutte e la traversa piena colpita da Santino Biondo allo scadere del primo tempo. Un Gela che alla fine ha raccolto poco ma che è uscito ugualmente tra gli applausi dei suoi tanti sostenitori giunti nella cittadina grigentina per assistere alla prima gara stagionale della formazione bianco-azzurra. Primi dieci minuti in cui non succede nulla di rilevante. Al quindicesimo ci prova Mincica sul calcio di punizione ma Dolenti si distende bene e devia in angolo. La reazione degli ospiti è tutta nel tiro dalla distanza di Galafiore che termina abbondantemente fuori. È sempre il Gela infatti ad avere le occasioni migliori. Al ventisesimo ci prova il difensore Strumbo ma il colpo di testa a schiacciare del centrale giolese termina alto sulla traversa. Al trentunesimo ancora Mincica ma la sua conclusione in acrobazia termina alta. Al trentaduesimo la squadra del tecnico Marcenò tenta con il tiro a giro di Bruno a sorprendere l'estremo difensore del Gela Seitta ma quest'ultimo sventa in angolo. A tempo quasi scaduto, brivido per la San Cataldese con l'attaccante Santino Biondo che timbra la traversa e si dispera per il mancato vantaggio. Nella ripresa i padroni di casa calano leggermente e la manovra diventa meno fluida. Al diciassettesimo così arriva la rete dell'argentino González che tutto solo alla limite dell'aria stoppa di petto la palla mettendo immediatamente la sfera dove Seitta non può nulla. 1-0 San Cataldese e gara in discesa per gli ospiti che potrebbero anche raddoppiare dopo tre minuti ma il colpo sotto di Bruno è troppo debole perché impensirisca la porta giolese. Alla fine uno svarione difensivo dalla retroguardia ospite per poco causa un clamoroso autogol. Finisce così dopo tre minuti di decupero la gara con la San Cataldese che porta a casa la qualificazione e il Gela che adesso tende alla rivincita questa volta in campionato. Una Gela che ancora deve trovare la giusta quadratura del cerchio come giusto che sia in questa prima parte della stagione e che attende ancora qualche rinforzo. Prima però sarebbe meglio ritornare a giocare al Presti sperando che i lavori sul sintetico dello stadio gelese inizino proprio oggi e che si faccia in tempo per completarli per l'inizio del campionato. E a fine partita Flavio Centamore ha raccolto la testimonianza del direttore sportivo Gianni Martello e del tecnico Toto Brucculeri. Direttore non è mai bello perdere nella prima uscita ufficiale di un Gela che punta ad essere comunque tra i protagonisti di questo girone di Serie D anche se era una Coppa Italia. Comunque una sconfitta che brucia all'interno del Gela Calcio? Assolutamente sì, non fa piacere mai perdere, il Gela non gioca, onora tutte le competizioni. Siamo sicuramente molto ma molto rammaricati per la sconfitta, per i nostri tifosi, per noi stessi, per il Presidente. Forse è meglio prendere qualche schiaffo all'inizio così ci caliamo subito nella realtà del campionato e cercheremo di fare tesoro degli errori commessi oggi per migliorarci in futuro. Puniti in pratica è l'unica disattenzione difensiva? Sì effettivamente puniti oltre sicuramente ai nostri demeriti però il risultato è questo, bisogna accettarlo e da martedì ci rimboccheremo le maniche per mettere riparo a qualche errore sicuramente commesso. C'è ancora qualcosina da fare nella Rosa? Sì sicuramente, lo sappiamo tutti che c'è qualcosa da fare, ci stiamo lavorando per portare il pezzo giusto che faccia al caso nostro. La sconfitta è sempre una sconfitta, però non è stata una sconfitta meritata. È un rammarico che potevamo benissimo fare la nostra partita nel primo tempo, penso che abbiamo avuto più occasioni nitide di poter sbloccare la partita solo che magari per un motivo o per l'altro non siamo stati bravi. Nel secondo tempo abbiamo avuto proprio una ripartenza per un nostro errore su un'uscita in fase offensiva, abbiamo preso una ripartenza che ci ha costato a gare. Al di là dei risultati, è soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi? Sì, devo dire che stiamo lavorando, io sono molto fiducioso, alla fine lavoro paghe, è chiaro che non potevo trovare una squadra brillante il 21 di agosto dopo aver fatto un grande lavoro. È normale che solo nel tempo pure riuscire ad assemblare una squadra con 9 undicesimi di giocatori nuovi, è chiaro che è giusto, bisogna trovare il giusto sincronismo. È arrivato Montalbano, è tornato Biancola, c'è ancora qualcosa da fare in questa squadra? Certamente, io penso che ci sarà qualcosa da fare, non è utile che ci rascondiamo dentro un dito. Lo sappiamo benissimo qual è il nostro giocatore che può anche alzare un attimo il tasso di esperienza, specialmente in un reparto come la retroguardia e che di conseguenza stiamo lavorando per questo. Ultimo appuntamento nell'ex monastero delle Benedettine con l'iniziativa all'estate gelese con la musica colta, promossa dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra in collaborazione col Comune. Domenica 28 agosto alle 21.15 concerto jazz dal trio Alessandro Locchiano-Tromba, Nuccia-Scerra-Pianoforte e Emanuele-Smecca-Chitarra. Natale al Basilico si tratta della rappresentazione teatrale che sarà portata in scena dalla compagnia Piccolo Teatro Città di Gela, domani alle 21.30 nell'ambito della rassegna Teatro Sotto le Stelle. Appuntamento all'arena all'aperto dell'antidoto a Macchitella. Il costo del biglietto, lo ricordiamo, è di 5 euro a coppia. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per aver guardato il video.